Il distretto del tessile pratese abbraccia l'economia circolare grazie al patto del tessile sigrato tra Regione Toscana, Comune di Prato, Alia Servizi Ambientali, Confindustria Toscana Nord, CNA Toscana, Confartigianato Toscana e Astri. Il patto favorirà la formazione di filiere dalla lavorazione alla destinazione degli scarti tessili fino agli impianti di incenerimento se non è possibile riutilizzare lo scarto. Quello del tessile è già un distretto che ricicla e recupera, tanto che in Toscana gli scarti si stimano attorno alle 50.000 tonnellate l'anno. Il principio di fondo è che noi non abbondiamo di grandi materie prime, quindi riusare le materie che già abbiamo inserito nei cicli produttivi non solo aiuta a combattere i cambiamenti climatici ma diventa di persona ricchezza. È quello che ci chiedono anche i cittadini, le aziende che si mettono in questa direzione arriveranno primi anche sul piano competitivo. Il patto per il tessile mette in campo non solo politiche per favorire lo sviluppo dell'economia circolare ma anche la creazione di condizioni che consentono una raccolta a rete dei rifiuti speciali insieme all'individuazione di nuove opportunità come Eco Firenze e la nuova piattaforma di Alia. Questo accordo permette alle aziende del settore tessile che hanno scarti tessili di conferire appunto a questo impianto di Alia i propri scarti a delle tariffe che saranno concordate tramite una commissione, quindi pensando che siano agevolate, e quindi sistemare una parte degli scarti tessili che era un problema effettivo per le nostre imprese. Trovare una piattaforma dove queste quantitativi si possono gestire si può dare adito appunto a nuove filiere di riciclaggio che consentono da questi materiali anche di recuperare e di produrre nuovi prodotti. Nel distretto tessile pretese lavorano più di 33 mila addetti tra tessile abbigliamento, un fatturato stimato vicino ai 5 miliardi di euro.